No, io non credo, ho fiducia che ci sia sui grandi temi di politica estera e di difesa un paese importante, un paese grande come l'Italia deve avere una continuità quindi io non mi aspetto su questo delle forti cambiamenti ognuno darà poi alcune sottolineature come è giusto che sia ma le linee generali immagino che rimangano le stesse Il ministro ha percepito una qualche preoccupazione da parte dei suoi colleghi per questa fase di incertezza della politica italiana subito quel volto Ma devo dire che più domande che preoccupazione però c'è una grande fiducia del fatto che essendo l'Italia comunque uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea è un punto fondamentale anche dell'Europa si riesca quanto prima a trovare una soluzione di stabilità